Dart Boss, 2 Let's Go, 3 Derrick Di Jesolo, 4 Cosmos Rob, 5 Deep Filling LF, 6 Ludo De Castel, 7 Bessinger Hanover, 8 Jiu Jitsu Hanover, seconda linea, 9 Exelon LB, 10 Express Road, 11 Constable. I pronostici sono tutti per il numero 2 Let's Go, Enrico Bellane, Sediolo, allievo di Holger Ellert, che si avvia con il numero 2, andiamo a vedere le fasi di partenza della gara, ancora una cinquantina di metri allo stacco della macchina, partiti, su di una linea lottano Dart Boss, Let's Go e all'esterno anche Derrick Di Jesolo, parte molto bene Express Road dalla seconda linea, mentre Let's Go va su Dart Boss, dopo 200 metri veloci nel 13,7, Let's Go rimane all'esterno, Dart Boss in vantaggio, Express Road ha colto buonissima partenza, Derrick Di Jesolo può parcheggiare in quarta posizione, avanti a Deep Filling LF, quarto iniziale in 27,5, insiste all'esterno Let's Go con Dart Boss, che concede strada soltanto dopo 550 metri di gara e ha speso parecchio il favorito per prendere in comando, 41,8 i primi 600, la terza posizione per Express Road, mentre in quarta c'è sempre Derrick Di Jesolo, c'è da muovere all'esterno, Deep Filling LF, mentre Cosmos Rob segue in quinta posizione, intanto gli 800 in 57,7, natura molto sostenuta con Express Road che sposta all'esterno, 700 dalla conclusione, avvicina al Let's Go, la squalifica per costo, passiamo al chilometro, Express Road attacca il battistrada, Let's Go, 1,12,4 nel passaggio al chilometro, all'esterno anche di Filling LF, siamo a 450 dalla conclusione, con Let's Go che deve vedersela con Express Road a 400 dal paro, la frazione in 14 secchi, Express Road insiste su Let's Go, indietro c'è Dark Boss che cerca di anticipare Deep Filling LF, Express Road sta attaccando e superando Let's Go prima dell'ingresso in retta d'arrivo, meno di 200 alla conclusione, passata Express Road ed entra addirittura in vantaggio il cedimento di Let's Go, mentre si allunga Express Road nel finale, Express Road viene a vincere nettamente per il secondo posto, finisce bene Ludo de Castel, a centro pista e cogli il secondo, per il terzo finiscono sulla linea Dark Boss e all'interno.